Cosa pensi di questa rassegna che va avanti da tanti anni a Casalecchio e perché secondo te è utile parlare di cultura e di lotta alle mafie ancora oggi nel 2018 attraverso questa manifestazione? È importante perché persone come me che poi veniamo definiti artisti a volte in modo proprio, a volte in modo improprio non potrebbero tentare di dare al pubblico un tentativo di cambiamento perché tu cerchi di raccontare una realtà e raccontarla per poi cambiarla, questo cerca di fare un autore, almeno credo, io cerco di fare questo, io racconto, una realtà, la invento per poter cambiare la realtà presente. In questo senso il teatro ci può definire anche politico in questo senso, però il mio tentativo diventa vano se non ci sono poi delle persone che si adoperano attraverso iniziative come Politicamente Scorretto nel far fruire questo tipo di cose. Chi cerca di combattere e di, poi sai, combattimento alle mafie, ma tu la mafia come la combatti? La combatti senza combatterla, cioè non è che dobbiamo, la cosa che dico sempre, che dicono sempre le persone che frequento in situazioni difficili con le quali anch'io ho a che fare a volte, noi dobbiamo combattere qualcosa, noi dobbiamo fare in modo che le persone che sono accanto a me, che tu, un'altra persona che sta accanto a me, stiano bene e cerchino di fare delle cose belle, cerchino di vivere una vita serena in una comunità, cercando di aiutare gli altri e cercando di vivere in armonia. Questo dobbiamo fare, e quella cosa diventa il combattimento. Poi, compito mio che cerco di narrare delle cose è quello magari di denunciare il pericolo dove si può scendere e decadere, quindi se tutte queste cose si mettono in rete, è allora sì che puoi creare un avamposto di civiltà, un avamposto di resistenza che determina poi la vera sconfitta delle mafie e le puoi sconfiggere veramente, ma è passo dopo passo, fin dalla tua casa, fin da quando fai il caffè la mattina, devi avere questo tipo di rispetto verso il prossimo, poi alla fine ci riduciamo sempre a quei piccoli paradigmi, a quelle piccole regole che qualcuno scriveva su qualche libro come la Bibbia, come il Corano, come altre cose, che sono libri, ma non sono libri importanti. Quindi secondo me il teatro in questo senso, gli organizzatori in questo senso, le rassegne in questo senso, se si mettono in rete, in rete anche con attività sociali, in rete con tutta una serie di cose, ci si riconosce, ci si guarda e forse tutto quello che si fa riesce ad avere un senso, che è poi la salvezza, è salvarsi, è salvarsi e salvare il piccolo che c'è in casa e oltre all'orticello e del dilimpettaio.